Questo contenuto è stato realizzato all'interno del progetto PREPARE, con il contributo dell'Unione Europea. Sono Chiara Zantelli, mi occupo di comunicazione nel mondo della mobilità sostenibile e oggi sono qui con Marco Pavarini, presidente di Communication Clinic e direttore generale di ExtraGiro, due realtà che supportano aziende e amministrazioni nella transizione verso una mobilità sostenibile. Marco, intanto grazie per essere qui. Oggi con te parleremo di cambiamento e mobilità sostenibile. Grazie a te Chiara dell'invito e dell'opportunità. Marco, io entrerei subito nel vivo chiedendoti una cosa. Secondo te cosa ci sta rallentando nella transizione verso una mobilità più sostenibile? Allora, la mia esperienza dopo che sono andato in giro un po' per l'Italia in questi mesi è che noi siamo all'inizio di una rivoluzione che cambierà drasticamente le cose, come eseguiremo le cose e come ci rapporteremo al mondo della mobilità. Siamo all'inizio di questa rivoluzione ma ancora non ne percepiamo tutta la portata. Stiamo cercando di, in qualche maniera, di entrarci in modo soft, di chiamare la trasformazione, di aggiuntare un processo dubitativo su questo fronte. Siamo quasi convinti che stiamo espiando una colpa. Per questo siamo entrati nel tema della mobilità sostenibile. Ma non è così. La rivoluzione della mobilità sostenibile è un cambiamento radicale che in qualche modo ci sta travolgendo e ci travolgerà magari a una fase adesso di avviamento più soft in cui ci sono molte resistenti ma a un certo punto arriverà. Arriverà e sarà abbastanza dirompente e cambierà molti degli equilibri che ci sono. Come tutte le rivoluzioni. Le rivoluzioni in qualche maniera cambiano gli orizzonti. Non cambiano solo il passato, non cambiano solo il presente ma cambiano anche le prospettive delle persone e delle società. Ecco, questa ha quella forza, ha quella dimensione. Non è ancora così affascinante. È ancora vista quasi veramente come un sacrificio che dobbiamo fare a fronte dei comportamenti sbagliati o di tecnologie vecchie di cui abbiamo abusato. Non è così. La mobilità sostenibile e tutto quello che c'è dietro, tutta la ricerca tecnologica, i cambiamenti che sta portando è qualcosa che va molto oltre. Non si può contingentarlo in questo semplice termine. Per cui stiamo vedendo, siamo testimoni, siamo protagonisti di questo cambiamento e noi stessi dovremmo farne parte. Ci sono generazioni come la mia che fanno una fatica in mane a cambiare le proprie abitudini. Ma delle generazioni che non ne hanno di queste abitudini magari così sbagliate invece la stanno vedendo, la stanno percependo e stanno diventando i protagonisti veri in questo senso. Infatti Marco dicevi, è difficile cambiare abitudini, specialmente chi magari è più radicato in convinzioni e modalità un po' più del passato. Quindi cambiare le proprie abitudini, allora già il pensiero di cambiare è un primo passo, un primo step. Cambiare veramente è molto più complesso, giusto? E' ancora più dura, certo. Qualche anno fa un economista ha vinto il premio Nobel sul concetto di Nuge, per cui la spinta gentile per portarci a cambiamenti. Stiamo lì dentro, stiamo concettualizzando che dobbiamo cambiare e ci manca il pezzo, la forza. Allora troviamo gli amministratori, il sistema, tutti chi si occupa di politica e di modibilità sta trovando degli incentivi, ma pian piano questa cosa viene a galla in modo veloce e rapido. Prendiamo un esempio, noi abbiamo preso come idea, come paradigmatica la bicicletta di questo cambiamento. La bicicletta è strumento antico, un antico mezzo di locomozione che con l'avvento della bici pedalata assistita, la bici elettrica ha avuto un nuovo splendore, un revamping, una nuova vita, un nuovo pensiero anche di utilizzo. Pensiamo alla bicicletta elettrica per spostarsi, pensiamo alle cargo bike per il microtrasporto, per l'ultimo miglio. Con la bicicletta da strumento antico e vecchio oggi è diventata invece la modernità. La modernità sia in termini di efficienza, di salute, di funzionalità e anche di tecnologia, perché anche la bici ha fatto dei salti negli ultimi vent'anni quantici dal punto di vista di tecnologia, di quello che c'è tutto dietro. Per cui oggi la bicicletta è diventata un oggetto di culto, questa cosa con l'automobile, se vogliamo andare anche a guardare quegli aspetti, proprio perché va oltre la funzionalità. Diventa qualcosa che è assolutamente uno strumento ben oltre il mero uso. Ecco, la bicicletta sta spiazzando un po', o perlomeno sta cambiando un po' le meccaniche di divisione della propria dimensione di vita, per cui i cambiamenti. Oggi ci si rende conto che si può andare in bicicletta e fare 20 km, perché c'è la bicicletta elettrica assistita. Va provata, va incentivata, va spinto, va conosciuto. Adesso la si guarda come dire, bene, sì, bellissimo, ma lo faccia qualcun altro. Invece pian piano questa tecnologia, questa nuova applicazione stanno cambiando e come cambia tecnologia? Cambiano anche chi progetta le città, chi progetta i palazzi, chi progetta i parcheggi, per cui cambia tutto quello che è l'ambiente esterno, l'orizzonte, il panorama che ci abbiamo di fronte. Cambia drasticamente, state vedendo l'uso delle vacanze, le vacanze stile in cui la montagna ha avuto un ritorno in voga, anche d'estate, non solo per la parte di passeggiate, ma anche per la parte di bici. È un cambiamento radicale per noi che pensiamo, metà a lavorare, metà dove andare in vacanza ad estate e d'inverno. Per cui, come vedete, c'è sotto traccia, ci sono dei gradini più o meno alti che verranno fatti magari tutti in una volta e ci troveremo pian piano dentro dentro questa nuova rivoluzione. Oggi si tratta di mettere insieme i puntini per dare sempre dei nuovi incentivi, sempre dei nuovi spunti. Hai citato appunto la bici e la nuova vita che negli ultimi anni, la bici grazie appunto alla pedalata assistita, all'e-bike, sta avendo e stiamo riscoprendo. E anche il fatto di aver reso più accessibili certe strade, di aver costruito, purtroppo non ovunque nella nostra realtà, ma in diverse città, in diversi territori, piste ciclabili, questo ha permesso appunto un maggiore sviluppo delle e-bike. E come citavi giustamente tu, anche per la parte magari un po' più ludica, le vacanze, il tempo libero. Ecco, se invece ritorniamo all'aspetto lavorativo, molte aziende in Italia ancora sono distanti dal pensare o comunque dall'agire rispetto all'uso della bicicletta per i propri dipendenti. si è ancora molto lontani dall'idea di sostituire il proprio parco auto con, ad esempio, un parco e-bike. Tu dici che siamo così lontani, così distanti, facciamo fatica a pensarlo, ma non siamo così lontani. Ti ribalto il concetto, cioè le città si stanno chiudendo alle auto, le città non sono state progettate per le auto. Abbiamo forzato in questi decenni di mettercene dentro il più possibile, siamo arrivati a saturazione, e oggi c'è esattamente l'opposto, l'idea di buttare le auto fuori dalle città e far ritornare quelle strade utilizzabili per più mezzi, compreso le biciclette. Per cui che cosa servirà poi avere un'auto se il tuo posto di lavoro è in centro, non ci puoi andare, non hai parcheggio. Per cui sì, siamo lontani, siamo lontani come modo di pensare, ma siamo vicini alle necessità, a poi avere l'urgenza di farlo perché la nostra quotidianità di vita ci imporrà di avere un modo di spostarti più veloce, più rapido, più salutare. Ci sono più lavori in corso, più fronti di attività e più persone coinvolte, più soggetti coinvolti. Da una parte ci sono le aziende che devono ripensare la mobilità dei loro dipendenti, sia per il caso lavoro che in generale per la vita. Voi considerate, cioè tu considera che il parco auto italiano è il 50% di proprietà delle aziende, che lo danno poi in uso ai dipendenti. Cioè questo vuol dire che un dipendente non si compra la macchina ma aspetta che l'azienda gliela compri, gliela metta a disposizione. Ecco, se l'azienda comincia a fare un cambiamento in questa direzione e dice bene, non ti compro più la macchina, perché per una serie di motivi anche le scelte individuali delle persone cambieranno e verranno riconsiderate, e va rifatto un nuovo bilancio su se vale la pena comprare una macchina o non vale la pena comprare la macchina. Per cui da una parte ci sono le aziende, da una parte ci sono le amministrazioni che stanno cambiando la geografia delle città, la dinamica delle città, l'accessibilità, l'utilizzo delle strade, dei parcheggi, le scelte appunto di poter costruire nuovi stabilimenti in zone servite dai mezzi pubblici piuttosto che in zone servite dalle auto. L'accesso controllato, le zone verdi, le zone trade. Per cui si sta cambiando il panorama, questi fattori sono uniti da quello che poi è un altro ruolo fondamentale che deve fare la trade union, dal mobility manager, no? Noi siamo lì dove questi fattori dialogano, non dialogano ancora forse benissimo, non sono ancora in sincrono, ma ci sono tutti quanti. È un insieme di elementi che si sta trovando l'allinamento dei giri, l'allinamento dei pianeti, per poi poter accelerare in questa fase. Ostacoli ce ne sono, dubbi ce ne sono, ma i dubbi e gli ostacoli ancora una volta non fermano una rivoluzione, cioè quando questa cosa prende velocità, ecco va a superare anche tutti i piccoli dettagli che oggi vengono visti come un ostacolo inscomontabile, quando poi la velocità è alta anche le salite le fai con meno fatica. Anche dietro questo aspetto c'è uno sforzo comunicativo che non sempre è facile gestire, né all'interno della singola azienda né tantomeno a livello comunale. Secondo te come si potrebbero superare questi ostacoli? In che modo quindi aziende, amministrazioni possono cercare di mettere in atto questa rivoluzione anche a livello comunicativo? La comunicazione oggi è il centro di ogni processo di cambiamento, nel bene e nel male, quando una cosa non riesce la prima colpa se la prende la comunicazione, non è stata raccontata bene, non riusciamo a far accadere delle cose che sono alla nostra portata la colpa della comunicazione, che è vero, bisogna anche capire che cosa significa tutto questo. Oggi la comunicazione è talmente tanto centrale che siamo in un'era che si chiama infodemia, ce n'è troppa, troppo sbagliata, è piena di fake, è piena di problemi. Per cui la comunicazione è innestata in un processo fondamentale, fondamentale che sia fatta in modo appropriato, puntuale, costante e continuativo perché racconti questa rivoluzione, non la può imporre, non la può essere una comunicazione che convince, come si diceva all'inizio, convincere una persona a cambiare abitudini non lo fai semplicemente con un dialogo, con una battuta o con una campagna pubblicitaria, neanche sedendo a te a tavola. Lo fai attraverso una serie di iniziative, una serie di esempi, diceva uno dei miei maestri, che era Gualtiero Marquesi, non di cucina ma di comunicazione, che l'esempio è la più alta forma di insegnamento. In questo è vero, per cui noi dobbiamo far vedere che le cose possono accadere in modo soft, anziché prima che accadano per forza in modo rapido e impattante. Per cui la comunicazione è un pezzo di un atto di esecuzione, oggi come oggi, nel tema della mobilità sostenibile. Abbiamo dei manager, deputati a questi, che sono i mobility manager, figura chiave, centrale, che è stata istituita e valorizzata negli ultimi anni, che hanno una visione ampia su tutto il processo di cambiamento, sulla tecnologia, sugli strumenti, sui mezzi, sulla comunicazione. Sono loro che devono fare la tradunione, la collante tra le aziende, le amministrazioni, i cittadini, le singole persone e tutte le società che sviluppano prodotti e servizi legati a questo cambiamento. Questo è un flusso da creare che si deve scontrare continuamente, costantemente, con anche una cattiva informazione, che per mille ragioni esiste, continuerà a esistere, è sempre esistita e oggi si amplifica e fa leva sugli aspetti più di pancia. La difficoltà e la pesantezza di fare una rivoluzione, tutto quello che è il carico emotivo e fisico ed economico di dover fare un cambiamento che ha un costo per ognuno di noi. Ed è facile una cattiva comunicazione che possa fare leva su questo, perché siamo tutti un po' pigri in questi processi di cambiamento. Ecco, in questo flusso che va messo in piedi di informazione, educazione, comunicazione, ma anche coinvolgimento, engagement, il mobility manager gioca una partita chiave perché se lui ha la capacità di tenere insieme tutti questi sistemi, far girare sempre più velocemente la ruota, ecco che la ruota produrrà più risultati, più adepti, più persone convinte, più esperimenti, più esperienze, più storytelling e tutto quello che serve per dare visibilità a questo processo di cambiamento, che è una rivoluzione. Da questo punto di vista Marco tu hai introdotto la figura del mobility manager come dicevi, una figura determinante nell'innescare questo cambiamento. Ci sono mobility manager credo con più mezzi, più illuminati, chiaramente ogni realtà è diversa. Non sempre è possibile, facile attuare il cambiamento in maniera concreta, però alle volte bastano magari anche piccole iniziative, progetti semplici. La comunicazione stessa può essere un primo passo per attuare un cambiamento, la consapevolezza si dice sempre che è la prima cosa, il primo passaggio verso il reale cambiamento. Ecco anche noi ad esempio come LEN stiamo investendo in qualche attività che senza richiedere sforzi, alcune risorse ingenti possa permettere ai mobility manager di iniziare questo processo di cambiamento. Ad esempio abbiamo investito in questa piattaforma che si chiama Geno.eco. Si tratta di un portale dove è possibile compensare le emissioni di anidride carbonica, di CO2, con pacchetti che vanno da pochissimi euro per le attività anche più semplici, più quotidiane, come ad esempio la compensazione della CO2 emessa da un anno di abbonamento a Netflix, che oggigiorno tutti abbiamo per dire, fino a pacchetti più sostanziosi che permettano anche alle aziende appunto di andare a compensare le emissioni emesse. Naturalmente questa attività di compensazione della CO2 non può essere la risposta unica e definitiva al problema, però indubbiamente insieme ad altre attività può essere un primo passaggio utile a innescare quel famoso cambiamento, quella rivoluzione di cui ci hai parlato fin dall'inizio. Chiara, io trovo questa iniziativa di Geno intelligentissima, è assolutamente fondamentale. Bisogna perseguire questa serie di micro iniziative, micro macro che siano per dare forza e sostanza e coinvolgimento al numero massimo di persone e aziende che possono essere parte di questo progetto, capirne, comprendere la metrica, comprendere la dimensione economica e comprendere tutti questi pezzi. Per cui io sono assolutamente favorevole e anzi penso che sia un moltiplicatore fondamentale per tenere vivo e continuare a alimentare questo processo di educazione, formazione, coinvolgimento e cambiamento. Sono d'accordo con te Marco, tutte queste iniziative sono molto utili. La storia ci ha insegnato però che a volte sono le scelte nette che funzionano e tutto sommato il cambiamento drastico che magari ci faceva così paura prima di attuarlo, una volta attuato non fa. Tu come la vedi? È assolutamente il mio pensiero. Io penso che ci sono dei punti di rottura nella storia, nei processi di cambiamento, nella rivoluzione. Questo è domani o dopo domani, questo non lo so, però ci sono già dei sintomi o dei risultati. Prendiamo degli esempi, prendiamo Bologna, Città 30, dove un'amministrazione ha deciso di tirare dritto per dritto a realizzarla, a farla senza guardarsi indietro alla polvere che sta sollevando, le critiche o il malumore, del mal di pancia. È un esperimento fondamentale ed è qualcosa come dire dove ti costringe a cambiare il processo di pensiero e di adeguamento. Ecco, sono questi punti di rottura che costruiscono il domani. È un passaggio fondamentale perché a un certo punto bisogna forzare, puntare a fare goal, per cui a essere decisi e incidere decisamente in quello che è il cambiamento. Per cui benvengano scelte nette perché ne vedremo sempre di più e saremo sempre più portati a supportarle e a spalleggiarle. Questo è quello che in qualche maniera possiamo immaginare che ci attenderà domani in questa grande rivoluzione. Ti ringrazio molto Marco per aver condiviso con noi la tua esperienza e la tua visione sul tema della mobilità sostenibile e come hai scritto, mobilità sostenibile non significa mobilità lenta. Grazie a te Chiara. Questo contenuto è stato realizzato all'interno del progetto PREPARE con il contributo dell'Unione Europea.